Mette alla porta anche il candidato al Consiglio Comunale Pino Cerra, Paolo Mascaro, appena raggiunto dalla notizia diffusa dai colleghi del Correre della Calabria, secondo cui l'uomo sarebbe stato citato lo scorso mese di febbraio durante una delle deposizioni in aula del pentito Giuseppe Giampà come uno di coloro che, in una delle precedenti competizioni elettorali, si rivolse a lui per essere aiutato nella raccolta di voti. In politica non vige il principio della presunzione di innocenza, anche se il prezzo della rinuncia a questo cardine della nostra civiltà, può in ultimo rivelarsi ingiusto e personalmente insopportabile, ha affermato Mascaro, dal momento che nel farne a meno, in un caso come questo, si finisce per consegnare l'onorabilità di una persona ad uno come Giuseppe Giampà, ad un soggetto che si è macchiato di orrendi delitti ed ha insanguinato per lunghi anni impunemente le strade della nostra città. Intanto ieri Pasqualino Ruberto, leader di Labor, ha iniziato il suo tour elettorale prima e gli ultimi dal quartiere ad alta densità rom Ciampa di Cavallo. A loro si è rivolto stigmatizzando le condizioni di vita in cui sono costretti e richiamando all'urgenza di non cadere nelle tentazioni di delinquere.